Io ho fatto il mio lavoro e ero vecchio. Ho lottato per la rinunzione, non per la pensione. Perché se avessi fatto il discorso alla pensione, non avrei fatto niente. Ipsi ed Ixit. Non poteva trovare parole migliori per definirsi Enzo Del Rey da Mola di Bari, cantautore e cantastorie da oltre 40 anni. Una vita e una carriera tutta contro, raccontata nel documentario Io e la mia sedia, di Angelo Amoroso d'Aragona, prodotto dalle Teche del Mediterraneo, presentato in anteprima al Cineporto di Bari. Il documentario è una struttura filmica, quindi è un viaggio con lui verso l'esibizione a Roma del primo maggio. All'interno di questo viaggio lui ci dà degli spunti e io sono andato ad ascoltare i testimoni diretti. Ho raggiunto i suoi amici, persone che non lo vedevano tra l'altro da decenni e che sono state molto emotivamente coinvolte nel sapere di Enzo e che si stava mettendo in moto questa macchina di recupero di una memoria. Una riscoperta di un patrimonio culturale importante, come ci dice lo stesso d'Aragona, e di un personaggio che, con gli anni, non ha perso il gusto della provocazione e dell'antagonismo. La cosa straordinaria di Enzo del Re è che lui riesce a essere nel mondo pur, diciamo, rifiutandolo. Lui riesce da mola di Bari, chiuso nella sua casa da 30 anni, con una pensione sociale ridottissima, però riesce a essere presente perché lui continuamente viene riscoperto. Era con Dario Fon negli anni 60. È stato nelle piazze italiane, in tutte le piazze italiane, insieme a Guccini, a Gliari, a Tanti, quando c'era il Circo di Ottobre. Dopo, lui oggi viene riscoperto da Caposella e tanti altri che lo chiamano a suonare con loro.